Amici di SS Fanta, ben ritrovati per un nuovo video, si parla inevitabilmente di Asta, c'è chi l'ha già fatta, c'è chi la deve ancora fare, sono in tanti, allora vediamo alcuni consigli veramente molto low cost su giocatori per completare la rosa, anche non solo in lega a 6-8 ma anche dai 10 partecipanti in su. Partiamo dalla difesa dove uno dei più costosi di questo gruppo può essere Pablo Marí del Monza, una certezza al Fanta già dai tempi dell'Udinese, molto bene nel Monza dal punto di vista dell'affidabilità e della titolarità, l'anno scorso ha avuto una disavventura a metà campionato però poi è rientrato e questa stagione la potrà fare tutta assolutamente era titolare. Nell'Empoli titolarissimo low cost Luperto, ideale per andare a completare il 7-8 slot, quindi proprio gli ultimissimi per non rimanere in 10 senza tante pretese, però anche qualche partita da 6,5 l'ha avuta. Sempre diciamo di fascia bassa a livello di prezzo, Anthony Oiono del Frosinone, terzino destro, senza grandi pretese, il Frosinone è una squadra che si deve ancora completare, però Oiono è uno dei giocatori diciamo su cui la società punta di più anche per il futuro e quindi non dovrebbe avere problemi ad essere titolare. Passiamo al centrocampo, anche qui non ci sono grandi pretese, neanche di bonus, allora partiamo da Torsby che è appena arrivato al Genova, ha già giocato a Genova ma alla Sampdoria e potrà più o meno ripercorrere un po' quella che era la sua avventura fantacalcistica che ha avuto ai tempi della Sampdoria, quindi un giocatore che le fa tutte, prende magari qualche cartellino di troppo, non è comunque un titolarissimo che schierate ogni giornata, qualche gollettino lo può anche fare, però l'importante è che vi porti il voto. Wallace dell'Udinese, classico giocatore veramente senza nessun tipo di pretesa, appare in una lega anche abbastanza numerosa, vi può far comodo, vi assicura la presenza in campo, lui ha il perno centrale dell'Udinese davanti alla difesa, Udinese che ha anche cambiato parecchio a centrocampo, vi assicura il voto, non di più, però se vi serve quello Wallace va benissimo. Più o meno, con la stessa tipologia di giocatore al fantacalcio, Makumbu del Cagliari, Ranieri ci punta, in Serie B già aveva fatto bene, può confermarsi in Serie A, anche qui titolare molto low cost, senza grosse pretese, quindi non solo da lega a 8 ma anche superiore per impedirvi ed evitare di giocare in 10. In attacco veramente difficilissimo, in questo momento anche col mercato aperto andare a individuare dei titolari sicuri low cost, pensiamo che, rimanendo a cifre basse, Banda del Lecce, che già l'anno scorso si era messo in mostra come scommessina, possa consacrarsi ulteriormente, avere più spazio, magari in un titolare fisso, però anche l'anno scorso abbiamo visto come potesse prendere quasi sempre voto anche su Bentrani, i ballottaggi sugli esterni nel Lecce ci sono, però è un giocatore che il voto lo potrà portare praticamente sempre, e in questo momento non è neanche in un particolare hype, a meno che non faccia ulteriori bonus, goal assist in questa pre-season o nel inizio di campionato. Qua abbiamo provato a cercare dei giocatori veramente a basso prezzo, a prezzo contenuto, però poi nei prossimi giorni daremo altri consigli oltre a quelli che diamo sempre e quotidianamente sulla nostra app e anche in live, quindi alla prossima!